Siamo così contenti di poter parlare di questa iniziativa perché inizialmente siamo stati contattati per poter ospitare questo screening e avute le garanzie che questo screening si svolgesse in completa sicurezza abbiamo pensato di dire bene oltre a essere ospitali cerchiamo di essere ospitali al 100% Siamo una scuola alberghiera, offriamo un pasto a tutti gli operatori sanitari e tutti i volontari e questo è stato possibile grazie al contributo della Banca di Pesaro che ha finanziato l'acquisto dei beni alimentari e soprattutto anche grazie al contributo dei docenti vorrei ricordare qui innanzitutto il professor Gabriele Bastianoni che è stato l'artefice, ha curato tutto l'aspetto tecnico pratico e non solo, quindi un ringraziamento a lui, ai docenti e soprattutto ai ragazzi L'attività è iniziata venerdì con la fornitura dei pasti solo per il personale impegnato all'interno della scuola, da ieri invece siamo operativi per far fornire tutti i pasti alle persone coinvolte in tutti e tre i centri In totale siamo sui 70-80 pasti che noi ci stiamo adoperando per preparare in un'attività che per noi è del tutto nuova perché comunque la fornitura di un pasto caldo in una situazione differenziata dalla nostra non è abituale I ragazzi coinvolti sono i ragazzi delle quinte e in un numero congruo a quelle che sono gli spazi, insomma quelle che sono la normativa che prevede Gli insegnanti coinvolti oltre a me sono tutti gli insegnanti che erano disponibili e in orario di servizio durante la mattinata E quindi il personale di cucina ma anche i tecnici di laboratorio, magazziniere, si è mossa l'intera macchina dei laboratori e del personale che viene coinvolto nei laboratori durante la quotidianità all'interno del nostro istituto Inoltre sì, non abbiamo neanche interrotto tutte le altre attività per le classi quindi abbiamo lavorato in sinergia con quello che era la quotidianità all'interno del nostro istituto E forniamo un piatto unico, cioè un secondo piatto carne con due contorni, un carboidrato, una patata, una pasta e una verdura di stagione Noi ci adoperiamo per fare tutte le monoporzioni in contenitori biodegradabili adatti al trasporto degli alimenti Li posizioniamo poi all'interno dei contenitori isotermici che sono quelli che vengono utilizzati stabilmente dalle aziende che fanno questo tipo di lavoro E poi beneficiamo del supporto della protezione civile che fa il trasporto all'interno dei loro mezzi di trasporto